Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Nel video di oggi vi voglio far vedere alcune serie che ho deciso di non continuare o che sono sulla giusta via per non essere continuate. Ci devo ancora riflettere su alcune di queste, però se sono qua è perché comunque ho dei seri dubbi se continuarle o meno. Sono tutte serie di cui ho letto magari il primo o il secondo libro, ma che non ho mai concluso e che purtroppo arrivati oggi non sento la necessità, il bisogno e nemmeno la voglia di continuare e di sapere come andranno a finire. Quindi andare a vedere tutte le serie che ho deciso di interrompere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, questo è il mio account. Di attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un video e se vi va vi faccio nei miei contenuti di iscrivermi al canale mettendo anche un mi piace e commentando. Mi interessa davvero tantissimo nel far crescere il canale e supportarmi. E infine vi ricordo il 20% di sconto sul sito di Pamping con il codice Mirko Smith. È arrivato il momento di iniziare a vedere quali serie, ho deciso di interrompere. Partiamo da una serie che con assoluta certezza non continuerò e sto parlando di Regina Rossa di Victoria Hayward. Questo è il primo libro di una serie di quattro, io ho letto solamente Regina Rossa per ben due volte. Sono stato molto combattuto per quanto riguarda Regina Rossa, ho avuto sempre l'intenzione di continuarla, infatti l'ho tenuta in liberia per diverso tempo perché l'idea era quello di continuare la serie e finirla. Purtroppo però mi rendo conto che avendola rimandata per così tanto tempo, ecco, significa semplicemente che non sono molto interessato nel continuare questa storia. Sono forse una voce un po' fuori dal cuore per quanto riguarda Regina Rossa perché è un libro che non mi è dispiaciuto durante la lettura ma che secondo me non brilla né di originalità e né di nessun altro elemento che comunque mi ha affascinato durante la lettura. Anzi, credo che sia un libro che prende tantissime cose da altre storie e le mixa tutte quante insieme per far nascere questa storia. Una storia che nel mezzo secondo me si perde tantissimo, un libro che secondo me nella narrazione si perde davvero davvero tanto per arrivare a un finale che mette effettivamente in campo degli elementi molto interessanti che erano poi l'unica cosa che mi avevano invogliato a continuare la serie perché se non fosse stato per l'idea del finale, per quello che succede nel finale, dei possibili sviluppi che ci sarebbero potuti essere nei libri successivi, ecco, questo libro io non l'avrei salvato minimamente. Non mi piace la protagonista né nessun altro dei personaggi, non ho trovato nessun punto di contatto con nessuno di loro. Anzi, la protagonista per la maggior parte del libro mi è sembrata molto molto piatta, molto scialba. Ma era un personaggio poco innovativo. È la classica protagonista degli Young Adult che non mi ha fatto nemmeno impazzire e empatizzare con lei vedendola sotto il punto di vista di stereotipo di personaggio femminile negli Young Adult. Anzi, non ho avuto proprio un legame con lei e con la sua storia. Nonostante, appunto, però, alcuni elementi all'interno della serie sono effettivamente interessanti. Questo fatto di una società divisa per colore di sangue. Ci sono degli elementi che mi erano effettivamente piaciuti. Poi, però, l'esecuzione, secondo me, si perde tantissimo. Per questi motivi ho deciso di non continuare la serie. Gli ho dato una seconda opportunità perché l'ho riletto ben due volte, questo libro. E tutte e due le volte, comunque, non è un libro che boccio. Perché credo che sia una bella lettura di intrattenimento, questo sicuro. Ma la sua poca originalità mi hanno portato a dire, Ok, sì, un libro carino, ma niente di eccezionale. Quindi ho deciso di abbandonarla. Passiamo alla prossima serie che ho deciso di abbandonare. Per forza di cose, devo essere sincero. Molti di voi forse rimarranno stupiti da questa scelta. Però, ormai, non trovo più nemmeno il senso di leggere l'ultimo volume. Sto parlando del Principe Prigioniero di C.S. Packard. Primo libro di una trilogia che, comunque, ha avuto il suo successo anche in Italia. Li è stata apprezzata da tantissimi e da me in prima persona. Io ho letto il primo e il secondo volume li ho adorati. Il secondo volume, poi, mi era piaciuto ancora di più perché c'era più azione, più meccanismi politici che si muovevano. Invece, nel primo libro, è più una conoscenza di questi due personaggi. Infatti, si tratta di una storia con tematiche LGBT che avevo apprezzato davvero, davvero tanto. Non c'è assolutamente niente da dire contro questa storia. Non ho assolutamente cose negative da dire per quanto riguarda il Principe Prigioniero, i suoi personaggi che, comunque, avevo trovato molto, molto interessanti. Anche la storia di base sotto. Avevo amato la relazione che si andava a intrecciare tra Damien da una parte e Loren dall'altra. Damien, questo Principe privato del suo nome, che finisce come schiavo di un altro Principe in un'altra nazione, ovvero Loren. Nonostante il loro rapporto parte da una posizione di svantaggio per Damien, poi, comunque, viene a creare questa relazione di politica, sotterfugi, segreti e piani che vengono messi in atto. Due, quindi, sono costretti, in qualche modo, a collaborare per riuscire a mantenere il potere. L'avevo trovato veramente molto bello, appassionante, in qualche punto un po' trash, un po' guilty pleasure, ma, comunque, nonostante tutto, una lettura davvero molto, molto valida, specialmente, come vi ho detto, nel secondo volume. Però è passato molto tempo da quando ho letto ormai il secondo volume. Ricordo a malapena tutto. Ho deciso che non continuerò la serie. La lascerò in libreria perché, magari, non so, un giorno mi prenderà voglia di rileggerla. E lo farò, non lo so. Però, per ora, ho deciso di accantonare l'idea di leggere l'ultimo volume, anche perché ogni volta che lo vedevo in libreria era tipo un peso sulle spalle, quel terzo e ultimo volume da leggere. Ogni volta è così. Quando ho un solo volume di una serie da leggere mi mette ansia, quindi ho deciso per un po' di accantonarla. È un rivederci più che un addio, quindi staremo a vedere. Però, per ora, ho deciso di abbandonare la nave. Un'altra serie che ho deciso di abbandonare è La Catoda dei Tre Regni di Morgan Rhodes. Io avevo letto il primo e il secondo libro. Questa è una serie di young adult fantasy che conta sei libri, se non sbaglio. L'avevo lasciata in libreria con l'idea di continuarla. Vi avevo parlato di questa serie come uno dei libri più deludenti e brutti del 2019 ed effettivamente è così. Il primo libro ha delle grandi problematiche per quanto mi riguarda. Problematiche che toccano tanti punti all'interno di tutta la storia, partendo dai personaggi alla trama, che secondo me si regge poco, ma poi però ha degli elementi, dall'altra parte, che ho trovato molto interessanti, elementi in qualche modo molto elementari e molto basici, poco originali, ma che all'interno di una storia del genere, secondo me, erano davvero accattivanti. Cioè l'idea che c'è dietro a questa serie a me affascina davvero tanto. E, come vi ho detto, anche nei libri più brutti letti del 2019, nonostante ho deciso di abbandonare, perché, ecco, leggere altri quattro libri di questa serie, che secondo me non vale il tempo che dovrei dedicargli. Ci sono comunque tutti quegli elementi, quelle domande, anche senza risposta, che mi hanno lasciato i primi due libri, a cui vorrei dare una risposta e sapere come andranno a finire le cose. Però, purtroppo, per arrivare a tutte queste domande, il viaggio da fare è veramente molto, molto lungo. Come ho detto, sono altri quattro libri. Quindi preferisco decisamente dedicare il mio tempo ad altre letture, piuttosto che a questa. A malincuore devo dire che l'abbandono, perché nonostante tutto, nonostante i grandissimi difetti che il primo libro ha, nel secondo vengono migliorati. È uno di quei libri in cui i colpi di scena si sosseguono molto velocemente. E sono anche colpi di scena che, sì, il lettore magari può rimanere sconvolto, ma che allo stesso tempo sono in qualche modo prevedibili. Sono colpi di scena non strutturati, ma messi lì come puro cliché, in qualche modo. Io consiglio questo libro effettivamente per chi ha voglia di leggere qualcosa di trash, guilty pleasure, in un contesto fantasy, perché non posso effettivamente dire che sia una serie young adult valida, perché non lo è. Vengono affrontate le varie questioni o la caratterizzazione stessa dei personaggi, non lo rendono un libro effettivamente valido. Però ecco, quei colpi di scena continui magari potrebbero piacere. Cioè, a me, da lettore che ama in qualche modo i libri di guilty pleasure, sono piaciuti. Però comunque ho deciso di accantonare tutto quanto. Un'altra serie che a malincuore, devo ammetterlo, ho deciso di abbandonare, è La battaglia delle tre corone di Candela Blake. Questo è il primo libro di 4 o 5, non ricordo nemmeno, che a me aveva davvero convinto tantissimo. Ho lessi solamente il primo libro della serie, l'avevo adorato. Il concetto che c'è dietro questa serie, queste tre sorelle con poteri diversi, che devono distruggersi per ottenere il trono, è un'idea, secondo me, bellissima. Cioè, a me era piaciuta davvero tanto, avevo convinto tantissimo e avevo davvero apprezzato genuinamente questo primo libro. Sto accantonando, infatti, questa serie semplicemente perché ho letto questo libro, una cosa come, boh, forse tre anni fa. Come è successo per Regina Rossa? Da una parte, sì, sono interessato a continuare la serie, questa molto di più di Regina Rossa, perché effettivamente questo libro a me era piaciuto molto. D'altro canto, mi rendo conto che è i liberi a prendere polvere. Ho deciso di metterci una pietra sopra perché anche qua, appunto, preferisco dare il mio tempo ad altri tipi di lettura, nonostante comunque, ecco, non sia una serie che io non consigli. La consiglio davvero tanto, secondo me è molto valida. A me aveva intrigato tantissimo, davvero, davvero tanto. Ha sicuramente dei difetti questo libro, anche il modo in cui vengono affrontati i vari personaggi. Ci sono una miriade di personaggi. Abbiamo queste tre corti totalmente diverse l'una dall'altra. In ogni corte ci sono tanti personaggi che alcune volte, secondo me, vengono inseriti nel contesto in maniera eccessivamente sbrigativa e non permette al lettore di capire qual è il suo ruolo, cosa sta facendo, cosa vuole, eccetera, eccetera. Le sorelle sono personaggi che io avevo adorato tantissimo e proprio c'è l'idea dietro questa storia che mi aveva affascinato un sacco. Però è passato, ripeto, tanto tempo dalla lettura di questo libro, quindi ho deciso di abbandonarlo. E infine l'ultima serie che forse abbandonerò. Non lo so, ci devo ancora riflettere. E sto parlando del Principe Crudeli di Olive Lake. Un libro chiacchieratissimo, ha fatto parlare di sé come poche cose al mondo. E io devo dire che come pura lettura a Guilty Pleasure di intrattenimento l'avevo apprezzato molto. Sì, sicuramente è un libro con una morale molto molto contorta. Ci sono dei messaggi anche sbagliati, se vogliamo dirlo, ma per semplicemente perché sono i personaggi principali ad essere moralmente sbagliati. Fanno cose in un contesto fantasy che, ecco, non sono moralmente giusti, eticamente giusti. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Il contesto in cui Holly Blake svolge tutta la storia va in qualche modo a giustificare l'azione dei nostri personaggi. Ci troviamo in un contesto fantasy dove le fate non sono gli esterini dolci e carini che magari siamo abituati a pensare, ma sono esseri crudeli, esseri che si fanno del male l'un l'altro. E quindi questo contesto spinge la nostra protagonista Jude a comportarsi di conseguenza. A me questo primo libro aveva davvero convinto tantissimo. Il problema è che non so per quale motivo non sono assolutamente invogliato nella lettura degli altri due. Il secondo libro in italiano è uscito a fine 2019 e per me è passato un po' in sordina. Cioè, l'ho visto la libreria, ho detto sì, un giorno ti prenderò, vedremo, adesso non c'è altro necessità di leggerti. Non lo so, forse la riprenderò quando uscirà anche l'ultimo libro. Adesso lo tengo in libreria, magari mi verrà voglia di leggerlo quando uscirà anche il terzo libro in Italia, però per adesso non è una serie che ho intenzione di continuare. In differenza di tutte quelle che vi ho fatto vedere fino adesso, questa è l'unica per cui appunto ho ancora un punto di domanda molto molto grande sopra. Sicuramente non ho voglia adesso come adesso di sapere come continua la storia, però lo teniamo in libreria e vedremo che cosa farne. Queste erano tutte le serie che ho deciso di abbandonare, serie che non voglio continuare perché appunto il tempo è davvero molto molto poco e scoprendo ogni giorno cose nuove decido costantemente di tenere da parte qualcosa per fare spazio magari a cose che ora come ora per me hanno in qualche modo la priorità e che mi interessano maggiormente. Sono molto curioso di sapere se anche voi avete delle serie che negli ultimi tempi avete deciso di abbandonare per un motivo o per un altro. Quindi vi aspetto nei commenti convincetemi anche a continuare una serie una di queste che vi ho fatto vedere se ci sono dei motivi per cui dovrei continuare la serie in questione. Per ora sono molto deciso sulle mie scelte però magari che ne so un commento potrebbe farmi cambiare idea. Vi aspetto nei commenti spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!